Buon giorno, cosa fa lei qui? C'è una persona. Cosa c'è? C'è una persona. Dove? Forse è una morta. Come è morta? Sono a seminario. Coggi, di dove sei? Hai visto qualcosa di interessante? Ah, guarda, è misterioso. È molto misterioso. Mi ho detto, per sé che si è voltato in lavoro. A me non mi racconta, giusto? Mi raccomando, non sta a fare il solito Gigi. E se la fa, che la... Che fai? Stai immaginando qualcosa? Sì, ma non so se dirtelo. Certe cose si pensa, ma non si dicono. Passo. Hai i suoi ordini, Capitano Gigi. Vai a farti vedere. Hai capito? Sei uno psicopatico. Hai mai fatto qualche pazzia, Gigi? Sì, ma non sì, ma non sì. Grazie a tutti.